Vi auguro una buona giornata e buon inizio settimana. Il messaggio di oggi è l'amore guarisce la paura. Il potere dell'amore può aiutare le persone aggressive e piene di rabbia ad avere meno paura. Le persone arrabbiate hanno una paura matta di avere problemi, perfino da adulti e i professionisti con lavori importanti. Dunque, quando incontri qualcuno che si comporta in modo aggressivo, ricorda che è solo molto spaventato. Se a tua volta ti arrabbierai con lui, non farai altro che aumentare la sua paura. Puoi invece guarire e far sparire questa rabbia con i tuoi pensieri d'amore. Guarda alla bontà che c'è in ognuno, te compreso. Sappi che tutti vogliono essere felici. A nessuno piace fare il prepotente. A nessuno piace essere arrabbiato. Le persone aggressive e arrabbiate sono molto sole perché la loro rabbia tiene gli altri a distanza. Tu puoi aiutarle mostrandoti gentile con loro. Per essere gentile con te stesso, ascolta la tua voce interiore che ti spiega come rimanere al sicuro. Invoca agli angeli soprattutto l'arcangelo Michele che ti protegge se hai paura. L'amore è la miglior difesa perché la tua voce interiore ti aiuta a riconoscere l'amore che c'è in ognuno. Questo ti farà sentire forte in ogni situazione. Questo è il messaggio per augurarvi la buona giornata.